Buongiorno a tutti, siamo qua al symposium, al quinto symposium New Martial Project, un bellissimo evento di unione di tutte le scuole italiane e vi mostriamo un po' di riprese di quello che abbiamo fatto a questo symposium con la nostra scuola. Tra l'altro ho avuto l'onore che come colonna sonora del symposium è stata scelta una mia composizione, Elettra, ed eccola qua. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.